Il quartiere di Monterrone a Forio si conferma un quartiere particolare, difficile, come tanti altri d'altronde, ma con delle criticità che continuano a rendere un po' più difficile la vita di chi in quel posto ci vive. Tuttavia non trova per ora riscontro il racconto su una presunta denuncia collegata al mondo della droga che un ragazzo di 20 anni di Forio avrebbe presentato alle forze dell'ordine, scatenando poi la vendetta di un gruppo di ragazzi del posto. Tutt'altro il fatto reale sembra essere un altro. Il giovane Foriano di 20 anni effettivamente ha riportato traumi e ferite importanti in seguito ad una lite con alcuni ragazzi del posto isolani, ma la maggior parte di origine straniera, screzzi tra ragazzi e incomprensioni nate già nei giorni scorsi quando c'era stato un precedente litigio. Tra le reali cause alla base di quanto accaduto ci sarebbero atti di bullismo e aggressioni ripetute di vario genere. Giovedì sera però si è oltrepassato il limite, passando dall'uso sbagliato delle parole alle botte, a cui hanno fatto seguito anche insulti sulla nazionalità italiana del giovane da parte degli aggressori marocchini. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine, in particolare la polizia, e intervenuta sul posto con una volante. Prima degli inquirenti erano arrivati alcuni familiari del giovane, tra cui anche il padre, che nel tentativo di difendere il figlio ha anche lui subito delle ferite, seppur di minore entità. Nel frattempo gli aggressori si sono dileguati, tuttavia la polizia sta indagando per ricostruire i fatti realmente accaduti e soprattutto riconoscere gli autori dell'aggressione, che potrebbero essere presto identificati, non escludendo tra l'altro gravi provvedimenti. Dunque al momento viene smentita la pista della piazza di spazio e della droga, per quanto nel quartiere ci siano problemi noti da tempo, ma al tempo stesso dietro questa aggressione ci sarebbe comunque un'azione di intimidazione di un gruppo di uappi che evidentemente con la forza hanno voluto dare una dimostrazione a chi non era disposto a subire sopprusi, per quanto verbali. Bisognerà comunque attendere la chiusura delle indagini della polizia per chiarire altri aspetti della vicenda. Nel frattempo resta il tema di una vivibilità sempre più difficile nel quartiere di Monterone, dove lo Stato sembra essere troppo lontano e poco presente. Ci si chiede se un comune molto popolato come Forio, dove sono presenti anche cittadini di tante nazionalità diverse, possa essere privo di un presidio delle forze dell'ordine. In generale ci si chiede, da un punto di vista sociale e politico, se si stia facendo abbastanza per garantire sicurezza, tranquillità e serenità agli abitanti della zona. È pur vero che sarebbe sbagliato fare di tutta l'erba un fascio e sicuramente Monterone non è un quartiere di criminali. Tuttavia i segnali che arrivano non vanno ignorati, al contrario devono toccare le coscienze di chi è chiamato ad amministrare il paese e a garantire la vivibilità del territorio.